Musica Speciali incontri, buonasera ben ritrovati, già lo avete visto, diamo il benvenuto all'onorevole Matteo Salvini, segretario federale dell'Alevi Nord. Buonasera segretario, allora arriva in un nord-est dopo voto, quindi ci interessa capire anche un po' cosa ne pensa, qual è il bilancio che traccia lei da segretario, credo positivo per voi perché lei dice di essere il secondo vincitore delle ultime elezioni, quindi dopo sentiremo anche che cosa ne pensa, però mi incuriosisce molto il dibattito di questi giorni che so che la fa arrabbiare sulla questione della legge elettorale, visto, forse sentito di questo streaming tra Renzi e alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle, scopriamo che la loro proposta è quella di una legge elettorale che sia anche per cancellare i nomi che non piacciono. Io non mi arrabbio, però quando vado in giro, anche ovunque, da nord a sud, Veneto compreso, la gente mi ferma parlando di lavoro, disoccupazione e sicurezza, non ne trovo uno che mi dice mi raccomando Salvini, fate la legge elettorale, non ne ho ancora trovato uno, quindi io penso che tutte le energie di chi è pagato per fare politica devono essere motivate e mosse dall'emergenza disoccupazione, noi proprio questa settimana, nel weekend abbiamo portato a Roma alcuni milioni di firme per cancellare la legge Fornero e ringrazio magari chi ci sta guardando che è andato in comune a fermare e altre leggi che hanno devastato il mondo del lavoro, quindi l'emergenza è la disoccupazione e ridare lavoro e speranza perché se uno torna a casa la sera senza un lavoro, non ha futuro, non ha famiglia, non ha sorriso e quindi il dibattito sulla legge elettorale proprio mi rimane qua, perché non la vedo come un'emergenza, anzi facciano quello che credono. Cioè dovesse chiamarla Renzi? Ma io ci vado, però prima gli chiedo cosa vuole fare per gli esodati, per gli alluvionati, per i cassi integrati, visto che sta scadendo la cassa in deroga per migliaia e migliaia di persone, per le piccole imprese, proprio questa settimana è scattato l'aumento dell'aliquota sui conti correnti, sui risparmi, cioè già in un momento di difficoltà per le imprese l'Italia è lo Stato che tassa di più fino al 26% chi ha in banca un'obbligazione o un'azione di questa o quella azienda, quindi siamo veramente su un altro pianeta, l'emergenza è il fisco e il lavoro, se mi chiama Renzi per parlare di legge elettorale io ci vado per tre minuti, il restante del tempo lo dedico ad altro, settimana prossima ci insediamo a Bruxelles come europarlamentari. Non avendo il gruppo so che l'hai già intervenuto su questo, poi magari a Bruxelles ci arriviamo, però le volevo chiedere, abbiamo visto queste immagini con gli scatoloni a portare dunque queste tante firme? 3 milioni di firme sono tante, da contare, da verificare, da timbrare, da autenticare, da soli, l'abbiamo fatto da soli senza il sostegno di altri, di sindacati, associazioni e quindi è una bella soddisfazione, sulla legge Fornero abbiamo raccolto il 571 mila, quindi se noi come piccola lega riusciamo a far votare 60 milioni di italiani l'anno prossimo per cancellare quella schifezza della legge Fornero e restituire i diritti acquisiti a tante persone, io sono felice. Fornero, prefetture? Cancellare le prefetture che costano uno sproposito non servono a niente, regolamentare la prostituzione riaprendo le case chiuse, basta andare in Austria, in Germania, in Slovenia, in Olanda per rendersi conto che il fenomeno c'è, viene controllato, ripulito, tassato, tolto dalla strada, c'è il referendum che cancella i reati di opinione, attenzione, siccome c'è il dibattito sull'immunità, chi ruba va dentro, però io non voglio essere processato per una mia idea, non voglio che un giudice domani mattina si alzi e dica quello che dicono a Rete Veneta non mi piace l'indago, quello che dice Salvini o quello che dice la Lega non mi piace l'indago, magari li metto direttamente in galera. No, le idee non si processano e quindi sono alcuni referendum secondo me di assoluto buon senso. Sull'immunità che pensa quindi? Sull'immunità io penso che il modello sia quello europeo, io ho l'immunità per quello che dico e faccio da europarlamentare, se io poi vengo a Bassano o a Milano e prendo una mazzetta l'immunità non ce l'ho perché quello è un altro paio di maniche. Quindi il sindaco che diventa senatore risponde per... Per quello che fa la senatore, venendo all'attualità il sindaco di Venezia fosse stato senatore, per quanto mi riguarda nessuna immunità per quello che è successo a Venezia. Se uno in Senato o alla Camera o a Bruxelles fa un intervento sull'agricoltura, sulla pesca che qualcuno ritiene sbagliato, su quello non mi rompi le scatole perché è il mio pensiero, però se uno piglia quattrini l'immunità è un altro discorso. Dopo arriviamo a Venezia e Mose e tutto il resto. A proposito, citavo il provvedimento per esempio legato alla prostituzione, ricordo il suo ex capogruppo in Senato a questo punto, Massimo Bitonci, neosindaco di Padova, tra le varie proposte che aveva presentato a nome vostro c'era quella di regolarizzare la prostituzione che avrebbe, tra l'altro porterebbe un introito studiato, almeno previsto, di 3 miliardi. Intorno ai 3 miliardi, per tradurre a chi ci guarda da casa, a parte toglierlo dalle strade, perché non so come sia la situazione in giro per il Veneto, però io a Milano ho di tutto alle 10 della mattina davanti alle scuole, quindi senza nessun controllo sanitario. Però 3 miliardi, uno cosa ci fa con 3 miliardi? Noi abbiamo fatto un calcolo che mandare all'asilo nido gratis in tutta Italia, i bimbi che l'anno prossimo andranno all'asilo nido costerebbe un miliardo all'anno, quindi io tassando la prostituzione per un anno garantisco l'asilo nido gratis a tutte le famiglie italiane per 3 anni, penso che ne valga assolutamente di solito si faceva il paragone con l'Imu nei mesi scorsi, adesso è superato questo problema, no? No, tassare la prima casa è sempre comunque secondo me delinquenziale, è criminale, perché non produce reddito, anzi è il frutto di un sacrificio di una vita e la toglieremo, perché prima o poi al governo ci torniamo e la ritoglieremo, perché la prima casa non si tocca, però siccome l'emergenza per molte famiglie, molti papà e molte mamme non sono papà o mamma perché fanno due conti e non si possono permettere un figlio, non si possono permettere neanche di sposarsi, magari stanno a casa con i genitori ancora a 40 anni, quindi una società che non fa figli muore e quindi io voglio da 41enne cercare di fare di tutto e di più perché le persone possano ricostruire un futuro e l'asilo nido fa parte di un futuro più sereno. Quindi, dice prima o poi come centrodestra ritorneremo al governo, lei è il Matteo anti-Matteo, quindi come si dice o no? Sarà il futuro leader del centrodestra o no? Per intanto mi occupo della Lega che qualcuno, qualche gufo dava per morte e invece è tornata a correre, a proporre, facciamo un congresso il 20 luglio mentre molti saranno in spiaggia o sul fiume, noi faremo le nostre proposte politiche a tutto il centrodestra, poi chi ci sta ci sta, però il centrodestra sull'immigrazione non può fare quello che fa Alfano, sulla famiglia non può avere cedimenti o idee bizzarre, sulle politiche europee non può andare a braccietto con la Merkel, quindi noi proporremo alcuni paletti che sono quelli del centrodestra naturale in tutta Europa, il centrodestra che vince in tutta Europa, in Italia no, perché c'è un pezzo al governo Gorrenzi, Forza Italia che ha i suoi travagli e che al momento attuale mi sembra abbastanza in confusione e c'è la Lega che è l'unica che ha ripreso a correre, però non possiamo fare tutto da soli. Ma ne ha parlato con Berlusconi, la curiosità, questa proposta, questo proposito, questa prospettiva come la vogliamo definire? Sì, è chiaro che Berlusconi non sarà mai il numero due di nessuno e quindi prima Forza Italia si deve chiarire al suo interno su che cosa farà da grande, quindi io seguo con rispetto senza dare lezioni, indicazioni. Ma è arrivata una telefonata dopo il voto da Berlusconi? Sì, ma ci siamo anche visti, abbiamo parlato anche di Milan, abbiamo parlato di tante cose, però ripeto c'è uno spazio enorme anche perché secondo me il blef Renzi non va avanti per molto, ha promesso tutto a tutti e prima o poi la gente ti dà fiducia una volta, due volte, l'abbiamo pagato anche noi in passato, poi ci diceva senti ma sei al governo cosa hai combinato e quindi non puoi continuare a regalare gli 80 Euro ogni 15 giorni e quindi bisogna preparare il dopo, bisogna preparare il dopo e noi faremo alcuni progetti, ad esempio sulla tassazione, noi arriveremo il 20 luglio proponendo un'unica aliquota, un'unica aliquota per tutti, ricchi, poveri, belli, brutti, simpatici, antipatici. Una mossa shock. Serve una rivoluzione, altrimenti l'economia così si sta spegnendo, qua chiudono 300 aziende al giorno, soprattutto al nord e tantissime al nord-est e quindi non serve l'1% di correzione in più o in meno, serve... Quindi sia IRPEF che IRAP o IRAP... Ma l'IRAP dovrebbe andare a essere cancellata. Perché sai che parla un territorio in nord-est... L'IRAP dovrebbe essere cancellata, sto parlando della tassazione dei redditi, quindi l'IRPEF per intenderci stiamo studiando alcuni modelli stranieri che riducendo la tassazione invogliano chi oggi non paga a pagare, altrimenti a pagare sono sempre i soliti fessi, quindi lo Stato incassa di più e lì sì chi evade con una tassazione al 20%, adesso con una tassazione che arriva al 60%, io non giustifico però capisco quel datore di lavoro che... Cioè lei pensa al 20%? Sì, stiamo studiando... Quindi siamo vicini a Slovenia e altri che hanno... Assolutamente, abbiamo tutte le potenzialità per farlo, assolutamente. Pensate come potrebbe essere appetibile l'Italia con una tassazione sui redditi al 20% e quindi l'esatto contrario delle ricette che i governi Monti, Lette e anche lo stesso Renzi stanno portando avanti adesso. Bisogna fare proposte sostenibili, non campate per aree, quindi ci stiamo studiando, ci stiamo lavorando, però la scommessa che ad esempio in Ungheria hanno portato la tassazione al 16% e l'economia è ripartita, hanno allontanato la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, ai signori di Bruxelles hanno detto sapete cosa c'è, tornatevene a casa che all'Ungheria ci pensiamo noi. Però ha visto e sentito in quello stesso servizio che le banche prese di mira dal Premier hanno paura e lo stesso alla fine non danno i soldi. Perché in Italia le banche prestano i soldi a qualcun altro. Non si dice che adesso ricominciano... C'è qualcuno che ci guarda da casa che è andato in banca e diceva ma sì guardi il Fido glielo do, anzi glielo rinnovo, glielo ho meno, trovate mene uno che va in banca sereno ed è trattato da cliente e non da suddito. In Ungheria con una tassazione ridotta è ripartito il lavoro e sono ripartite le esportazioni. L'emergenza in Italia è il lavoro, se la gente non lavora dello spread se ne frega, se uno è a casa senza lavoro dell'inflazione, di quanto costa la benzina, se non hai lavoro tutto passa in secondo piano. L'Ungheria non le chiedo dell'Italia, che cosa pensa della partita, chi deve essere la logica. Mamma mia, tragica, tragica, però io mi infiammo e mi appassiono per il Milan. Però un'Italia così raffazzonata, senza cuore. Sarà Albertini, potrebbe essere Albertini visto che è ex Milan insomma, no? Sì, però uno dei principali colpevoli è il milanista Balotelli, che spero venga venduto nell'arco di 24 ore perché non è... Ah sì, Arsenal quindi. Ma ovunque, ma anche la Serie B polacca, non è un giocatore né da Milan né da nazionale. Accidenti, vabbè questa è una notizia, però io torno perché ho visto che lei mi ha portato in altri argomenti, però dovessero propoglierla questa cosa del leadership del centro-destra sarebbe a disposizione. Ma per fare che cosa? Cioè, il leader di che cosa? Di chi per fare che cosa? Si diceva, si pensava, dovesse essere il nuovo... Se condividiamo un progetto, il centro-destra a Bruxelles settimana prossima, un posta con la Merkel, un posta contro la Merkel, io ritengo che l'euro sia una moneta sbagliata e finirà a vita breve e quindi il centro-destra che cosa vuole fare? Sulla sicurezza, sull'immigrazione, c'è un pezzo di centro-destra che sostiene il governo Lorenzi che chiude 200 commissariati di polizia, fra presidi e commissariati, per normale, che vota indulti, svuota carceri, depenalizza il reato di immigrazione clandestina, lo spaccio di droghe, quelle non sono politiche di destra, quelle sono politiche demenziali, ma se uno deve etichettarle di sinistra, quindi ci candidiamo per fare che cosa? Sulla famiglia, io ritengo che i bimbi vanno andati in adozione dove c'è una mamma e un papà, non due mamme o due papà o il genitore uno, due, tre, quattro, cinque, c'è un concetto di famiglia, di società che ci differenzia dalla sinistra, dalla sinistra che ha tutta la dignità di dire quello che vuole dire, ma ha una visione della vita diversa dalla mia. C'è che proprio a Venezia è partita una delle crociate sul genitore uno, genitore due è l'iscrizione. Ma è normale? È normale, ma io se dovessi andare, io ho due bimbi, ma se mi mettessero mai in mano un foglio dove non c'è la mamma e il papà, io non sono né genitore uno né genitore due, te lo straccio, me lo ricompili, me lo rifai, non è rispetto, ma così come non è rispetto... Cioè questa sia una perdita di suoi diritti? Ma figurati, la mamma è la mamma e il papà è il papà, io ricordo che la domenica delle elezioni annuale mi aveva colpito questa notizia, in provincia di Venezia c'era un tizio che era entrato dicendo io non voto se non togliete il crocifisso, ma ti pare, e l'hanno coperto, ma questa non è rispetto, integrazione, questo è suicidio, chi viene qua sa che cosa trova, io mai o lei mai, se andassimo in vacanza in un paese diverso dal nostro ci permetteremo di andare a dire a qualcuno, guarda togli quella roba lì, togli quella roba... Quindi fa bene Massimo Bitonci a proporre il crocifisso, anzi avere intenzione di regalarlo perché venga rimesso negli edifici scolastici nella città di Padua? Perché è un simbolo di cultura, non solo un simbolo religioso, fa parte della nostra cultura, della nostra radice, per chi crede e per chi non crede, io vado a messa due volte all'anno e quindi non sto facendo una battaglia clericale, però se togli i pezzi di cultura, il Neoletto è il sindaco di Bergamo, giusto non stare solo in Veneto, dice io toglierò i cartelli con la scritta in lingua locale nella città, ma se ti vergogni del crocifisso, del tuo dialetto, della tua lingua, della tua storia, delle tue tradizioni, l'agricoltura, io vado a Bruxelles a combattere perché non voglio gli OGM in casa mia, qua c'è qualcuno che dice che nel nome della produttività e del profitto bisogna consumare il più possibile, ma io voglio mangiare quello che mangiava il mio nonno, non voglio mangiare robe strane, quindi quello non è futuro, quella è la fine. Qual è stato secondo lei il segreto, al di là dell'ottimo, immagino da parte sua, investimento sulla persona, sulla campagna elettorale, insomma il segreto della vittoria di Padova, che è diventato un caso nazionale chiaramente? La voglia di cambiare, Padova è una città stupenda che io conosco da quando ero ragazzino, che si è spenta, è insicura, è grigia e quando la gente ha paura di uscire, puoi avere la città più bella del mondo, ma se non la vivi, io ho girato Padova, ho parlato Gita perché è stato in Gita nel senso che da piccolino perché diceva… No, piccolo, ma no, ci andavo quando avevo gli amici all'università di Padova, una delle città più belle del mondo, che ho visto progressivamente spegnersi e in campagna elettorale sentivo, nessuno avrebbe scommesso sulla Lega e su Bitonci, ma si sentiva che c'era voglia, al di là degli steccati politici, la sinistra a Padova ha fatto solo danni, quindi c'era voglia di cambiare, adesso la nostra responsabilità è grande, però mi sembra che Bitonci sia partito bene con alcuni segnali giusti al posto giusto, anche che qualcuno si lanci in insulti tipo… Eh, volevo chiedere cosa dice… Sono Oliviero Toscani… Allora, vediamo se mi ricordo, ma non sono segnato, quindi… Chi vota l'imbecille, un'analfabeta… Subumano e ha dato del Pirla poi, vabbè, a Bitonci, che cosa pensa? Cosa risponde a Toscani? Prima l'abbiamo querelato, perché va bene il confronto politico però del subumano, dell'imbecille, dell'analfabeta, a chi vota Lega non glielo dai, puoi darlo a Salvini che non si offende, però visto che la Lega l'ha votata 1 milione e 700 milioni di persone porta rispetto, anche se fai il fotografo e sei milionario, taci e porta rispetto. Secondo, mi fa piacere perché vuol dire che stiamo lavorando bene, se la sinistra radical chic con la puzza sotto il naso e i milioni sul conto in banca si agita per il voto alla Lega, ma è lo stesso signore che ha detto che la Lega era finita, quindi evidentemente deve un po' aggiornare i suoi… Forse vi porta fortuna. Appunto, ma io spero che ogni settimana Oliviero Toscani ci insulti perché porta buono, anzi se ci guarda faccio appello, non ti quereliamo più, continua a insultarci. Tra l'altro i soldi ha detto Bitonci che andranno a questo fondo, doveste vincere il processo, un fondo anticrisi per… Perché la Lega vinca un processo è un'ipotesi assolutamente, ma perché tantissimi giudici amici io non li vedo, tendenzialmente se possono dar contro alla Lega dan contro alla ghiera. Vedi che si candida leader del centro-destra, ma ha seguitato anche lei dei giudici? Io no, toccando ferro, però mi hanno arrestato in Lombardia tre sindaci, non uno, tre, in provincia di Brescia, senza che poi sia emerso nulla. La sindaca di Montichiari è stata arrestata per presunte tangenti e se uno finisce in galera per presunte tangenti poi ha perso le elezioni, la gente che opinioni si fa. Poi è stata rimessa fuori, scusate, non era vero niente, cadute tutte le accuse, qualcuno paga? No, quindi non si fa così, non è giustizia. Altra idea o iniziativa che ha già annunciato Massimo Bitonci in questi giorni è quella di non concedere più le palestre comunali all'associazione culturali per il Ramadan di cui siamo alle porte. Che dici di questo? Io dico che un certo tipo di Islam non è portatore solo di un concetto religioso, ma usa la religione per imporre un modo di vivere, secondo me, incompatibile con la nostra società. Io penso all'ex Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche che vuole che venga riconosciuto in Italia il matrimonio di rito islamico, io non sapevo cosa fosse, me lo sono andato a leggere, il matrimonio di rito islamico prevede che ogni uomo possa avere fino a 4 mogli, questo non è tolleranza di una cultura diversa, questo è fuori legge, ricongiungo 18 nonni, 78 cugini e 48 sorelle, no, ci si sposa una volta, due volte, tre volte con una persona alla volta e secondo me la donna per un certo tipo di Islam è un essere umano in Serie B e quindi fino a che l'Islam non fa chiarezza al suo interno su quali sono i diritti conquistati in Occidente, le libertà e le parità di diritti conquistati in Occidente, io non gli do, non ho la palestra, non gli do neanche mezzo metro quadro. Invece a Treviso, visto l'esperienza a Manildo del primo anno, del dopo Lega, diciamolo così, lì state lavorando per ripartire, c'è l'attesa, chiaramente lo sa meglio di me, per il congresso di ottobre, per vedere… Ogni tanto si perde, ma qualche sconfitta ogni tanto è anche salutare perché serve anche a ogni organismo e quindi anche a un movimento politico per riorganizzarsi e magari rinfrescare un po' le idee, lascio giudicare i trevigiani, se il sindaco sia promosso bocciato in questo primo anno, io sono di parte, però penso che faccia a gara con Pisa Pia per la peggior gestione della città fra Treviso e Milano e come Lega ci stiamo riattrezzando perché l'anno prossimo ci sono le elezioni regionali e quindi Zaia non si tocca. Zaia non si tocca? Se i Veneti lo voteranno, non voto io al posto dei Veneti, però abbiamo il governatore più amato d'Italia e quindi squadra che vince non si cambia da questo punto di vista. Perché sa che proprio per le incursioni trevigiane, sono state definite così anche dalla stampa, di Flavio Tosi si pensava che… Fronte Veronese è convinto che il candidato sia Flavio Tosi? Se abbiamo come governatore uscente il governatore più amato d'Italia… Non si discute, le dice. Mi sembrerebbe bizzarro, poi abbiamo la fortuna di avere non uno ma due leader in Veneto che sono Zaia e Tosi, però c'è spazio per tutti, il mondo è grande, quindi non è che necessariamente tutti dobbiamo fare il governatore del Veneto. Quindi cosa vede nel futuro di Tosi? Ne parliamo, perché io fino a sei mesi fa mai nella vita avrei pensato che nel futuro di Salvini ci fosse di fare il segretario federale della Lega e quindi non posso elucubrarlo in un weekend su Rete Veneta, però siccome sono persone in gamba, c'è tanta gente in gamba, magari anche non conosciuta televisivamente, però abbiamo un fior di consiglieri, sindaci, assessori che potrebbero fare i ministri meglio di alcuni ministri attualmente in carica e se la Lega continua a crescere come sta crescendo i problemi saranno che dovremo avere persone, non trovare posto per Tizio e per Caio perché le competenze non ci mancano, quindi poi il Veneto è una terra così ricca, così diversa, da seguire palmo a palmo che non ci si annoierà. Le faccio un'altra ultima domanda su Tosi però perché comunque è tema di attualità, insomma in questi giorni soprattutto ha treviso quella cosiddetta politica un po' degli interventi o delle sospensioni, nel caso di Pettena… Io sono contro i provvedimenti disciplinari, sempre a prescindere perché sia un movimento che deve rispettare nei limiti ovviamente della gerarchia e del rispetto… Il caso di Pettena, insomma Presidente del Consiglio provinciale… Non do giudizi sui singoli, però siamo in un momento in cui siamo tornati a crescere, a correre, a proporre, a essere attrattivi che io vorrei che tutti i segretari di sezione della Lega aprissero le porte, perché c'è gente che fortunatamente sta ritrovando la voglia di far politica, perché diciamocelo, a votare quasi uno su due non sono andati a votare, quindi stiamo cercando di rimotivare la gente per bene, che si è allontanata e quindi più che allontanare o sospendere bisogna aprire, bisogna coinvolgere, bisogna… Ancora non si sa, bisogna capire col commissario adesso i tempi anche per Venezia, lei ha già un'idea o no? Noi adesso come Lega ci sforzeremo appunto di far politica anche in piena estate facendo il congresso federale il 20 luglio a Padova, appositamente come segnale, quindi i congressi si faranno poi fra settembre e ottobre e abbiamo un sacco di gente che fortunatamente ha voglia di fare il segretario provinciale, il segretario di sezione, se ci sono uno, due, tre candidati meglio, perché c'è più brio, c'è più competizione, basta che poi tutti lavorino sullo stesso… No, la mia domanda era chiaramente se potrebbe essere Zaccariotto uscente presidente di provincia. Sicuramente Venezia con quello che ha combinato la sinistra, come Lega e come centrodestra abbiamo il dovere di proporre ai veneziani dopo 70 anni un cambiamento, però non voglio essere irrispettoso anche nei confronti delle altre forze politiche, sicuramente noi di uomini e di donne in grado di competere ne abbiamo. Potrebbe essere, insomma, magari, chissà. Dell'inchiesta Mose so che lei ha ripetuto più volte, ha sottolineato più volte anche a livello nazionale il fatto che non sia toccata la Lega e in particolar modo il presidente Zaia. Degli ultimi sviluppi e anche della difesa fino a questo momento di Galan cosa pensa? Non voglio condannare nessuno a priori, certo che lì c'era un sistema veramente incredibile, perché c'era la politica e però c'era la magistratura, c'era la finanza, c'erano le cooperative, c'erano le banche, c'era l'impresa, c'erano i controllori, i controllati, c'era dentro di tutto e quindi quello è estremamente preoccupante. Mentre nel caso Expo Milano c'erano tre o quattro vecchi soggetti che più o meno millantando però cercavano di vendere o comprare informazioni, qua pare che ci fosse un sistema dalla A alla Z, io spero che non sia colpevole. Galan anche perché ha governato Regione Vento bene per tanti anni, però mi sembra che gli elementi che stiano uscendo quando si parla non di migliaia ma di centinaia di migliaia di Euro. Detto questo, siccome ho visto in casa Lega inchieste che sono partite a furor di popolo, noi avremmo preso, siamo stati qualche tempo fa sui giornali, perché avremmo preso 10 milioni di Euro per vendere degli elicotteri in India, a nessuno risultava sta roba qua e però ogni tanto esce il fatto che la Lega avrebbe preso questo esagio, mai visto un Euro e quindi non voglio condannare nessuno a priori. Detto questo, che il governatore su cui metto la mano sul fuoco sia assolutamente estraneo, anzi che dalle intercettazioni di alcuni soggetti coinvolti si lamentasse il fatto dell'arrivo di Zaia come momento di interruzione di quel sistema lì, per me da segretario della Lega è motivo di onore. Come deve intervenire la politica? Se ha le capacità poi di farlo in questi rapporti? Troncando, allontanando, certo dirò qualcosa di impopolare, il taglio del finanziamento pubblico, poi per carità la Lega è nata da niente e può andare avanti e andrà avanti senza finanziamento pubblico col sudore e la fatica dei militanti e di chi ci crede. Altri partiti che spendono in campagna elettorale decine e milioni di Euro evidentemente hanno altri modi di finanziarsi, quindi la politica deve assolutamente isolare questi soggetti e non riproporli, non ripresentarli, perché nel caso Expo a Milano i soggetti coinvolti erano già stati coinvolti vent'anni fa nelle vicende di Tangentopoli e la politica però li aveva ricoinvolti sia da parte di Forza Italia che da parte del Partito Democratico, evidentemente fanno comodo certi soggetti. Ho notato che non è una grande simpatia, mi sembra di capire, per il nuovo centrodestro, forse per il suo leader in particolar modo, perché sa poi anche gli equilibri all'interno della regione, ci governiamo bene localmente e a livello di Regione Veneto e Regione Lombardia in base ai programmi e quindi lì ci sono programmi, sottoscritti, impegni, consiglieri e assessori del nuovo centrodestra che lavorano bene con Zai e lavorano bene con Maroni. A livello politico nazionale cosa devo pensare di un ministro dell'interno che sta assistendo senza muovere un dito alla più grande immigrazione clandestina della storia della Repubblica italiana? Posso solo pensarne male, quindi quello che funziona a livello locale e a livello nazionale è un disastro, dal mio punto di vista. Non posso pensare di dialogare con chi attualmente sta assistendo a mille sbarchi al giorno e a queste persone noi diamo 40 Euro di vitto alloggio per stare in albergo, non esiste. Però sa che vengono date le cooperative, non in mano all'immigrato. No, non è in mano, però magari ci sta guardando qualcuno dall'albergo che è sbarcato il mese scorso a Lampedusa piuttosto che ad Augusta ed è a spese del contribuente veneto in albergo dove fa colazione, pranzo e cena, mentre ci sono dei veneti che non fanno colazione, pranzo e cena. Su questo Bruxelles cosa deve fare? Se ne frega. Bruxelles è cinque anni che abbiamo provato a cambiare il trattato di Dublino, a coinvolgere, a cambiare Frontex, a coinvolgere tutti i 28 paesi dell'Unione, per cinque anni ci hanno detto problema vostro. Magari adesso si svegliano visto che siamo arrivati a 60-65 mila sbarchi solo nei primi mesi dell'anno, però io ho poca fiducia onestamente nel fatto che Bruxelles abbia utilità e intenzione di aiutare l'Italia a uscire da questo problema. Però sa che i soldi arrivano anche da lì per affrontare questo problema. Ci credo, ci mancherebbe altro che non ci dessero pure due lire. Comunque rispetto al costo anche sociale è enorme. Adesso, io l'avevo detto in campagnetta orale, ma mi hanno detto le solite sparate della Lega. Adesso usciranno i primi dati, anche sanitari, sul fatto che è ovvio, anche a un bambino, che chi scappa da zone così devastate, terremotate, dove gli ospedali non esistono, è chiaro che ti riporta malattie che qua non c'erano più da tempo, ma basterà chiederlo a qualunque medico di pronto soccorso, non voglio fare il minagramo, però bisognerà stare molto attenti. Hai citato dati che riguardano anche la Lombardia, se non ricordo male. Sulla scabbia, gli ospedali di Milano e di Monza con un più 80%, e alcune forme di tubercolosi da noi ormai estinte non sono neanche più coperte da vaccini, quindi non vorrei correre ai ripari quando sarà tardi. Citava dunque l'Europa in particolar modo, tanto si è formato questo famoso gruppo che si attendeva tra Grillini e Farege e c'è un trevigiano che è co-presidente, siamo a Farege che è Davide Borrelli. Voi invece siete senza gruppo per adesso, cosa vuol dire? Sì, senza gruppo vuol dire che hai qualche poltrone in meno, sostanzialmente, vuol dire che hai qualche presidenza o vicepresidenza di commissione in meno. Io ho chiesto i voti per avere due presidenze di commissione, no, mi ho chiesto i voti per andare a fare l'opposizione seria e unica a Bruxelles, perché il gruppo di Farege e di Grillo, Farege vuole delle centrali a carbone, Grillo vuole andare in giro a cavallo e quindi evidentemente l'una cosa non sta con l'altra, Farege è per la libera circolazione delle merci, ognuno vende quello che vuole a chi vuole, mentre invece secondo me bisogna difendere le nostre produzioni. E quindi se avremo due vicepresidenze in meno mi interessa poco, con la Le Pen abbiamo comunanza di intenti sull'immigrazione, sull'agricoltura, sulla pesca, sul made in Italy, sul made in France, sul lavoro prima ai nostri cittadini, quindi la battaglia la facciamo con o senza gruppo. Senta, però c'è un segnale che è arrivato adesso con la presidenza, sono da parte dell'Italia, Matteo Renzi in particolar modo se non lo sappiamo, che anche la Merkel quando ha parlato al suo, quando ha tenuto il discorso al suo Parlamento, sia per un allentamento di questo rigore, patto di stabilità, per dirne una, attenzione alla disoccupazione giovanile, cioè sta cambiando qualcosa veramente? C'è l'Europa non tedesca che sta morendo di disoccupazione, quindi Spagna, Francia, Italia, senza andare in Grecia, la Germania ha guadagnato tutto quello che poteva guadagnare in questi anni, cioè come i giocatori di poker che giocano barando, al tavolo pieno di fish, secondo me adesso la Germania dice io ho fatto quello che potevo fare, adesso divertite voi, io vado via con le mie fish, non mi stupirebbe che fosse la Germania uscire dall'Euro per prima, quindi mi era triste il fatto che Renzi comunque ripeta ogni giorno rispetteremo i patti, rispetteremo i vincoli, rispetteremo i tetti, qua c'è da sfondarli i vincoli, i patti e i tetti, quindi non vedo questa mini concessione della Merkel come una grande novità anche perché ripeto l'emergenza e la disoccupazione in Italia siamo a livelli di 50 anni fa, una disoccupazione come quella di oggi non c'era 50 anni fa e quindi c'è bisogno di uno shock, di una rivoluzione, non di piccole concessioni. Cosa si aspetta da questo semestre italiano? Io voglio sperare, ci sono alcune battaglie importanti che si giocheranno a Bruxelles, ad esempio sull'agricoltura, che è uno dei settori trainanti per il Nord, per il Veneto, per la Lombardia, perché quello che mangiamo è quello che esportiamo, quello che beviamo, parte il fatto che noi siamo quello che mangiamo e poi è un business incredibile per l'Italia, ci hanno massacrato, io sono stato in campagna elettorale in diverse zone del Veneto, quasi nessuno parla più di pesca, però i regolamenti di Bruxelles stanno trasformando i pescatori in ingegneri, perché devi capire cosa peschi, quanto è lungo, quanto è grasso, se sorride, se non sorride, le reti piccole e quindi io mi aspetto che Renzi faccia il Presidente del Consiglio degli italiani e quindi vado a dire il Made in Italy, la mia produzione me la difendo e me la gestisco io, cosa che non hanno fatto né Monti né Letta negli ultimi anni, ci credo poco, perché secondo me Renzi è lì finché va bene la Merkel, però noi lo aiutiamo, se c'è bisogno di dare una mano noi ci siamo per difendere la nostra produzione. Ma siccome prende sempre di mira l'intervento, i primi interventi anche il tema del lavoro e la legge Fornero, ma i primi interventi invece di Matteo Renzi legati al mondo del lavoro, attendendo questo poi disegno di legge, questa riforma… Nel senso che li ha annunciati 15 volte, stiamo cercando di capire dopo l'annuncio che cosa succede. Ma anche il decreto Poletti, chiamiamolo così, questa proroga dei contratti a tempo determinato, cosa fa secondo lei? Aumenta il precariato o è un intervento invece di rottura rispetto alla Fornero? Non so come vogliamo definirlo. L'Italia ha la broncopolmonite e questa è un'aspirina, c'è bisogno di uno shock, c'è bisogno di qualcosa di forte, per ora gli interventi e le parole del governo riguardano poche migliaia di persone, qua c'è bisogno di dare risposta a milioni di persone e la scommessa della sinistra temo che sia quella di tolgo altri diritti ai lavoratori così gli imprenditori li assumono. Nessun imprenditore assume un lavoratore se non vende la sua merce, il problema è far vendere, se io ho un negozio di marmellate non vendo le marmellate, tu mi puoi offrire una commessa a costo zero che lavora sette giorni su sette domeniche comprese, io non la prendo, non mi serve, il problema è vendere e far ripartire l'economia, quindi abbassare le tasse, quindi uscire dall'euro, quindi ridiscutere alcuni parametri e poi il lavoro riparte da sé, non per decreto, non penso che il lavoro riparta per decreto. Il tema tra l'altro che sarà affrontato anche a Bruxelles ed è fondamentale per il nostro paese è quello dell'energia, si discute sempre di rigassificatori ulteriori, ce n'era bisogno, l'aveva detto l'ex ministro Zanonato tra l'altro che creando un po' di scompiglio in Friuli, Venezia e Giulia dove c'era un dibattito proprio sul tema del rigassificatore, cito dati di qualche giorno fa, la CGA di Maestra dice che l'abbassamento dell'intervento sull'energia per l'85% delle aziende è inutile, per 4 milioni di aziende perché in realtà è fatto per un consumo… Sostenuto. Esatto, sostenuto. Le piccole e medie imprese che sono… Si laggiorna sempre sulle grandi aziende, non sulle piccole e medie che invece sono l'emergenza e sono l'ossatura. Parlando di politiche internazionali però e parlando di energia, io penso che a settembre stiamo organizzando una missione in Russia perché mi sembra che l'Europa abbia tutto l'interesse ad avere buoni rapporti con l'Oriente del continente e quindi mi sembra che… Come Lega, ha stato organizzando le PED? Come Lega, ma mi sembra che sia demenziale alzare venti di guerra con la Russia, dal punto di vista politico, democratico ma anche energetico. Mi sembra che gli interventi bislacchi e fuori posto sulla questione ucraina e minacciare le sanzioni nei confronti della Russia sia demenziale, soprattutto perché se interrompono le forniture, qua veramente andiamo in giro con le candele. Le sto dando una mano a Berlusconi per organizzare questo incontro? No, faccianda soli. Io torno sempre lì. Faccianda soli, faccianda soli. Tra l'altro lei parla di un territorio, diciamo, il nord-est in cui ci sono tantissimi artigiani, imprenditori, insomma che hanno creduto anche in questa svolta poi di Matteo Renzi e fino a questo momento sa che era un territorio, un tessuto imprenditoriale legato più al centro-destra inevitabilmente, affascinato da Grillo forse per alcuni mesi, con un periodo e adesso da Matteo Renzi. Speriamo, io non faccio lucere, io vivo in Italia, ho due figli e quindi se Matteo Renzi fa qualcosa di utile sono solo contento, non sono pagato per dire no, non va bene, non va bene, non va bene. A giudicare dai primi approcci, ripeto, dal punto di vista fiscale, fossi un piccolo imprenditore non avrei niente di cui essere soddisfatto per questi primi 100 giorni del governo Renzi, però lasciamo che sia il tempo a dare il giudizio. Non le ho chiesto una cosa sulla città metropolitana ancora, province poi ci arriviamo, ma città metropolitana sa che c'è un dibattito anche qui, lo stesso tra gli industriali e il governatore Zai che invece parla di un carrozzone. Secondo me è una fesseria, perché le classiche cose all'italiano, si fa finta di cancellare la provincia che secondo me invece era l'unico ente utile, andrò controcorrente, però penso alle province montane, al ruolo di coordinamento. Da leghista ce l'aspettavamo, forse una rivisitazione delle regioni. Facciamo perdere voti, però io dico le cose anche se mi fanno perdere voti, se ci credo. Sicuramente che ci siano regioni in Italia di 300 mila abitanti, quello non ha senso, quindi ridisegnare magari sulle tre macro regioni le realtà amministrative, che ci siano comuni di 80 abitanti con loro strutture, evidentemente è fuori tempo, però il governo Renzi ha cancellato fintamente le province, perché poi c'è il personale, ci sono i presidenti, si è inventato le città metropolitane semplicemente perché le governerebbero tutte loro, quindi senza passare dal voto degli elettori avrebbero il controllo di tutti i servizi comunali, però sono dei mostri di, penso a Milano, dovresti governare 4 milioni di persone, ma neanche se arriva Superman riesce a fare una roba del genere. Quindi in toto il progetto della città metropolitana è errato? Secondo me sì, sono assolutamente a favore del rispetto dell'identità, la città metropolitana mette insieme i fichi con le pere e con le mele, aree totalmente diverse, un conto è il ruolo di coordinamento della provincia che può occuparsi di montagna, può occuparsi di pianura, può occuparsi delle zone in riva al mare con alcune competenze, hanno cancellato le province, faccio esempi di vita concreta, le province si occupano della ricollocazione lavorativa dei disabili, dei non vedenti, con cui io sono in contatto con le loro associazioni che sono preoccupati perché non hanno ancora capito all'italiana chi si occuperà di loro, quindi io lo chiedo se viene un esponente del governo, hai cancellato le province, ci sono ma non vengono più elette, chi si occupa del reinserimento lavorativo dei disabili? il comune che non ha gli occhi per piangere, la regione, i casini che ci sono nelle regioni, la città metropolitana fra uno o due anni quando si capirà chi le fa, ma poi c'è la città metropolitana di Reggio Calabria adesso con tutto rispetto, dai. Ma concretamente il patto di stabilità si riuscirà ad allentare o no secondo lei? Lo disse anche Deborah Seracchiani in campagna elettorale per le regioni, lo ribadito Matteo Renzi. Sarebbe doveroso, sarebbe doveroso. Ma è un ruolo che dovete avere, che avrà l'Europa? Patto di stabilità, l'ha applicato l'Europa, però è Roma che ha deciso di farlo ricadere sulle spalle dei comuni, perché in altre realtà europee è lo Stato che risparmia, qua invece hanno detto comuni noi ce la prendiamo con voi, quindi sono comuni che hanno 10 milioni di euro in cassa e non possono rifare la scuola materna perché i soldi sono bloccati, però sono anni che lo chiediamo. Basta che abbiano scritto la lettera a Matteo Renzi però. Sì, a Babbo Natale, ma io ho smesso di credere a Babbo Natale, ho 8 anni, mio figlio ci crede ancora a 11, sono contento, ho tanti sindaci che hanno scritto la letterina a Matteo Renzi, però Babbo Natale non è ancora passato. Dovevano essere questi i mesi, tra l'altro i giorni, insomma vediamo se... Sì, ma ha detto che pagava tutti i debiti... Ecco, era la scuola domanda. 60 miliardi, guardate le slide, pim, pam, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, entro luglio dovrebbe pagare 68 miliardi di euro di debiti dello Stato e degli enti locali nei confronti dei fornitori, ce n'è notizia, siamo a fine giugno? Qualcuno sa qualcosa? Secondo lei, che cosa segnerà il PIL nel nuovo trimestre? Perché poi è fondamentale, bisogna capire se si va in positivo o no. La cifra che più io seguo con l'attenzione è quella della disoccupazione e purtroppo i dati OSCE da qui al 2016 dicono che per l'Italia continuerà a peggiorare, non godendoci anzi, perché a me come politico arrivano ogni giorno decine di mail, di gente disperata dai 20 ai 70 anni che mi chiede lavoro e non sono io purtroppo a poter dare o creare o inventare lavoro. Se il PIL cresce dello 0,2 ma la disoccupazione continua drammaticamente ad aumentare, non ci frega niente, non vuol dire niente. C'è una cosa che invece in questo intervento, l'intervento di Matteo Renzi in questi mesi poi sa che adesso si è preso… 80 euro, qualcuno che ha avuto 80 euro in più in busta paga sarà contento e sono contento e è contento anche lei. E ci mancherebbe altro. Ma sai che adesso si è dato mille giorni, no? Si è detto per le riforme… Mille giorni di te e di me, di Paglione, sì. E quindi? Siamo passati dai 100 giorni ai mille giorni, speriamo che i prossimi non siano i 10 mila giorni. Secondo me ha promesso troppo a tutti, perché ha promesso tutto a tutti, è stato bravissimo, ha fatto una bellissima campagna elettorale. Gli ha detto non ha rispettato però le tempistiche, ma è complicato, lui cerca di correre di più della politica, no? Però sei il Presidente del Consiglio, Matteo Salvini viene a Rete Veneta, da leader della Lega all'opposizione, noi a Roma siamo in 30 su 900, ci sta che io dica, io vorrei che a luglio si lavori sulle pensioni, ad agosto… Se sei il Presidente del Consiglio, magari rimandatelo quella famosa conferenza stampa con le slide, prima di dire a febbraio faccio questo, a marzo faccio questo, ad aprile faccio questo, pensaci, non è che sei uno che passa per stradici, ma a me piacerebbe fare la riforma della giustizia, e falla, sta annunciando 13 mila volte le stesse cose, ma a parte gli 80 Euro, ripeto onore al merito perché è geniale aver fatto coincidere il giorno delle elezioni con l'arrivo in busto. Ma ha detto che era una mossa che arrivava dopo le elezioni, no? Certo, ha fatto la campagna elettorale per due mesi con gli 80 Euro, ma se l'avessimo fatto noi qualcuno ci avrebbe denunciato per voto di scambio, però ripeto, mi fa piacere per quelli che ce li hanno in busta paga. Non mi ha detto però niente dell'aumento della tasse, certo la prima casa dice lei che non andrebbe… La tasse, ma già è drammatica… Pensavo facesse il paragone, perché poi è quasi immediato quando si contestano gli 80 Euro, no? Sì, i calcoli, lei citava la CGA, i calcoli del fatto che gli 80 Euro vadano, gli 80 Euro che poi non sono 80 Euro per la stragrande maggioranza delle persone, che però vadano ben presto riassorbiti, c'è la tassa sul passaporto, c'è l'ipotesi di aumento bollo auto, il telefonino, di tutto e di più. La tasse, ecco l'Italia è l'unico paese del mondo dove la gente fa la fila non per pagare la tassa, ma per capire come pagare la tassa. Ogni comune fa un po' diversamente, ti manda il bollettino, non te lo manda… C'è chi paga giugno, c'è chi paga ottobre, non è normale fare la fila, a Milano c'è gente che fa la fila per capire come pagare le multe, già ti arriva la multa e non sei particolarmente contento, devi fare la fila di ore imposta per andare a ritirare la multa che poi dovrai andare a pagare in comune. La tasse, già è una tassa odiosa, la prima casa dovrebbe essere sacra, almeno fammela pagare civilmente. Sa che adesso arriverà l'idea, l'ha annunciato più volte, quella del 730 precompilato, questo complica di più o no? Sì, perché poi non ti mettono le detrazioni. Quindi poi vanno calcolate, devi aggiungere. Lo mandi a casa e però io devo conservare nei sacchetti del supermercato, gli scontrini, la farmacia, la palestra, le spese del veterinario, i figli e poi a me interessa quello che pago nel 730, non che mi arrivi a casa il bollettino. La nostra scommessa come Lega sarà di abbassare le tasse per tutti facendo pagare di più, perché così facendo pagare di più, cioè più persone? Facendo pagare più persone, perché se io riduco l'aliquota rendo più conveniente pagare a quelli che magari adesso si stanno davanti alla televisione inventando come eludere, come cercare di scavallare. Il secondo passaggio sarà conseguenziale rispetto a una semplificazione secca del sistema fiscale, a me piacerebbe che ci fosse in busta paga il lordo, cioè io do in busta paga quello che ti spetta, poi sei tu che ti paghi i contributi, ti paghi le tasse, ti paghi tutto, il rapporto di fiducia col cittadino vorrebbe questo, quindi non sostituti l'imposto, non sono io Stato o io imprenditore che devo farmi tassatore tramite lo Stato e quindi trattenerti, io ti do in busta quello che ti spetta e poi siccome mi fido di te, perché ho una tassazione più giusta e non folle come adesso, io faccio conto sul fatto che tu per il tuo interesse ti paghi i tuoi contributi. Ci sono tantissimi altri, abbiamo parlato veramente un po' di tutto, oltre a questo leggevo, Padova in questi giorni ha annunciato l'intenzione di far tornare altri capitali dall'estero, che è una cosa fondamentale in questo momento, però ha detto non parlate subito di condono, perché c'è la paura di… Il fatto Berlusconi l'hanno crocifisso, se lo fa Renzi sarà una cosa intelligente sicuramente, e quindi va bene, e quindi non si può contestare. Senta, onorevole, un'altra cosa invece che mi interessa molto del suo impegno in Europa, lei ha detto entro, leggevo, sentivo Borghezio proprio nelle scorse ore, entro luglio voi troverete una soluzione anche per il gruppo, anche se ha detto che poi per incarichi non contano, meno poltroni… No, è meglio essere in tanti che in pochi, non è un concetto particolarmente intelligente. Perché è una questione di nazionalità anche rappresentata in Italia. Sì, a Bruxelles, ma lì chi ha studiato l'Unione Europea veramente o si era alzato male la mattina o era stato sul ponte di Bassano e aveva esagerato, perché per fare un gruppo devi avere sette nazionalità diverse con almeno 25 deputati, quindi se ti manca un bulgaro o un maltese sei rovinato. Il nostro è un gruppo ostracizzato fin da subito con una campagna stampa diffamatoria, la Lega, la Le Pen, brutti, cattivi, razzisti, nazisti, egoisti, eccetera, eccetera, e quindi alcuni si sono spaventati, perché non tutti hanno il coraggio, la forza di dire io vado con quel gruppo lì, però penso che fra qualche settimana non ci sarà problema e le paure saranno scomparse, perché qualcuno ha detto aspetta, perché se vado in quel gruppo lì magari a casa mia, in Polonia piuttosto che in Ungheria, piuttosto che in Svezia scrivono che sono in un gruppo di matti, a me hanno detto un giornalista italiano mi ha chiesto se non ho vergogno di stare con la Le Pen che è nazista, io pensavo che i nazisti fossero stati archiviati dalla storia fortunatamente, la Le Pen dice prima i francesi stoppa l'immigrazione, stoppa l'estremismo islamico, lo dico anch'io senza sentirmi nazista, anzi. Ma non arriva un'attenzione maggiore per i francesi adesso per ovviare a questo boom della Le Pen, sì adesso spenderanno una cosa drammatica, l'Unione Europea adesso pare che darà tanti soldi alla Francia perché sono preoccupati della vittoria della Le Pen, è drammatico che l'Unione Europea dia i soldi laddove la gente non vota come vogliono loro, fortunatamente la democrazia è un'altra roba. E a voi non piace Juncker, giusto? Juncker, innanzitutto sfido uno qualunque di chi ci sta seguendo una casa a sapere chi è Juncker, è uno dei massimi artefici del disastro economico di questi anni, è uno dei capi della gestione dell'Unione Europea di questi anni, è uno di quelli che diceva più rigore, più austerità e vedrete che riparte tutto, boom! E adesso lo nominiamo capo della Commissione Europea che governa 500 milioni di europei, l'artefice di questo disastro, sembra geniale proprio. Senta, questa riforma della pubblica amministrazione, penso al stesso stipendio anche se ti spostano di 50 km meno tempo per la rappresentanza sindacale, sono un po' di cose che possiamo citare che sono nell'intervento del Ministro Madia, che cosa le fa pensare a una riforma? Ma la lotta alla burocrazia assolutamente sfonda una porta aperta, noi diamo, anzi daremo dei nostri minuti. Ma questo è il modo giusto per intervenire sulla burocrazia, sui tempi? Può essere un inizio, certo, se si vuole essere seri bisogna prendere carta e penna e guardare a parità di numero di abitanti, il numero di dipendenti pubblici, regione per regione e vedi che a nord c'è un parametro e a sul c'è un altro, quindi al di là di farti lavorare 50 km meno tempo. C'è un intero paese che lavora come forestale, questo sì, lo so cosa sta citando, ho capito. Quindi una riforma alla pubblica amministrazione significa che se ci sono migliaia di persone assunte per non fare una mazza, non servono, o gli fai fare altro. Detto questo, ripeto, la lotta alla burocrazia è sacrosanta, quindi se magari riesce Renzi a tagliare le unghie ai sindacati, noi ci siamo. Ma sai che non ha un ottimo rapporto con i sindacati in particolar modo? Perché i sindacati hanno smesso di essere sindacati, difendono gli assistiti, li ho visti come consigliere comunale per tanti anni, sono quelli che ormai gestiscono chi fa lo straordinario se è la tessera sindacale, chi viene promosso se è la tessera sindacale, chi ha il trasferimento o il turno più conveniente se è la tessera sindacale e difendono anche le cause perse, ho visto riassumere gente che rubava nelle valigie in aeroporto, non è quello il ruolo del sindacato. Secondo lei, le chiedo una delle ultime cose davvero, Matteo Renzi vuole velocizzare, vuole l'intervento sulla legge elettorale? Perché poi il Movimento 5 Stelle gli ha dato una scadenza e tra l'altro la disponibilità a discutere delle riforme, anzi prima di legge elettorale, secondo lei adesso vogliono tutti discutere con Matteo Renzi perché hanno capito che conviene stare al suo fianco perché va avanti o… Forse hanno capito che sono pagati per lavorare, non per dire no o vaffa, uno lo stipendio a fine mese lo porta a casa anche per costruire qualcosa, quindi se sono accorti anche i grillini meglio tardi che mai. Detto questo… Cioè c'è stato un cambiamento dopo il voto, le dice di atteggiamento? Non puoi dire fanno tutti schifo, sono bello solo io perché anche tu hai i tuoi difetti, io non sarò bellissimo ma ognuno guarda in casa sua e ripeto siamo pagati a fine mese per risolvere dei problemi, per aprire le scuole, non per dire no, 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 la legge elettorale sì secondo me Renzi prima o poi avrà voglia di andare a votare, che ne dica lui? Ecco è questo che volevo, quindi gli conviene, gli serve avere una legge elettorale velocemente. I tempi? Secondo me la farà velocemente. Quindi entro l'anno potrebbe essere e che vuol dire andare al voto 2015 secondo lei? Secondo me potrebbe essere tentato di andare a votare… Perché deve cambiare i suoi rappresentanti in Parlamento? Ma anche perché economicamente la situazione non penso che migliorerà purtroppo e quindi cosa va avanti? A promettere di anno in anno in anno quello che non succede? Perché gli 80 Euro li dai una volta, non puoi darli 6 volte di seguito e quindi secondo me proverà a massimizzare il boom mediatico di questi mesi. C'era una cosa che volevo chiedere, mi aspettavo di vederla con una felpa, adesso si ironizza… Fa caldo, fa caldo… Ma ce n'è una che ho scritto Bassano del Grappa anche o no? No, Bassano no, colmerò questa lacuna. Io adoro l'identità, mi piace respirare, mangiare, bere, ascoltare, parlare… Poi senta da quando c'è l'imitazione di Crozza adesso, lei lo deve ringraziare ha detto no? A me ha sempre fatto ridere Crozza, a prescindere da chi prendesse in giro, però gli manderò una felpa di Bassano se mai la fanno. Però quell'immagine di vederla assieme a Bossi e a Maroni mi serve, è la viscomica chiaramente di Crozza, ma mi serve per chiederle, la grande intuizione probabilmente di Maroni è stata quella di scegliere lei nel ricambio, lei diceva mai l'avrei immaginato 6 mesi fa, però insomma… Mi ha scelto perché è milanista, penso che sia andato per esclusione, poi ha scelto i militanti, vediamo, sono contento di quello che stiamo facendo, sono contento dell'entusiasmo che c'è, ogni tanto mi arrabbio perché non tutti fanno quello che dovrebbero, però ci sta. Lei ha fatto una campagna elettorale in cui hai corso dappertutto, da una mattina alla sera. La politica è questa, poi è il bello… Se la vedevano ovunque, poi chiaramente in televisione molto… Fa parte del lavoro, parlare e anche ascoltare, a me piace andare in televisione, soprattutto nelle emettenti locali per parlare i problemati locali e anche per ascoltare, perché spesso e volentieri ti sollevano dei problemi i telespettatori via telefono, via mail, via Facebook, che tu non sei in grado di conoscere, visto che non siamo onniscenti, però la presenza sul territorio è fondamentale, la gente ha bisogno di toccare, di criticare, se è del caso, non basta la televisione, non bastano i comizi, quindi sono stracontento di aver incontrato una marea di gente. Anche perché lei per Antonio Masi è l'uomo di Twitter, di Facebook, in diretta… Però la vita non è solo la rete, a me quelli che… cosa faccio, cosa mangio stasera, ma interpello la rete, vediamo cosa pensa il popolo della rete, il popolo della rete è una parte della vita, però il popolo della strada, del mercato, della piazza, della parrocchia, dell'ospedale, del volontariato, per me vale di più, è il popolo della rete. Grazie Matteo Solvini, grazie di questa lunga chiacchierata, quindi buona permanenza a Nord-Est, era il segretario federale della Lega Nord, grazie, buon lavoro, grazie a voi per averci seguito, buonanotte.